Non lo conosce? No, e tu? Non me non Sei tu di ricca né? Si Ma sei la pelo cabello Ehi Checco Dov'è che sei? Eccolo Checco è arrivato 6 minuti prima che parta il treno Mi sono svegliato tardi alle 8 Ma sono l'ultimo E ho detto oh devo fare il modello Questa è la famosa fermata dove scendono tutti i tifosi per andare allo stadio olimpico Finale Usingvanola Un'ugdata Un'ugdata E' finitato Un'ugdata 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 L'unico Un'ugdata 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 Il primo match dell'Italia contro l'Italia Il primo match dell'Italia contro l'Italia 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 contro Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.